Ciao, sono Luca Manelli e in questo video voglio spiegarti perché devi usare il traduttore dvg che trovi sul mio sito internet per effettuare l'esportazione dei tuoi disegni. Il traduttore lo trovi sul mio sito, in home page basta che fai scorrere la pagina, nella parte bassa hai un link all'interno delle risorse che ti permette di andare a aprire la pagina del traduttore dvg. Una volta aperta la pagina hai la possibilità di vedere quali sono le caratteristiche principali del traduttore, puoi scaricare il traduttore per il tuo archicad, puoi vedere che ho iniziato a realizzare il traduttore partendo dall'archicad 17, subito sotto puoi vedere come andare a installare il traduttore. Una volta installato lo potrai utilizzare per registrare i tuoi disegni. Ora siamo all'interno di archicad, voglio andare a registrare questa planimetria. Se devo registrare un solo disegno la cosa più comoda è sicuramente passare dal comando del menu archivio salva con nome, nel caso in cui hai la necessità di salvare più disegni sicuramente l'operazione migliore è quella di utilizzare la pubblicazione. Nel mio caso vado a utilizzare il salva con nome, all'interno della schermata vado a selezionare il formato dvg e all'interno delle lingue dei traduttori seleziono il mio traduttore. Se fai clic su impostazioni avrai la possibilità di andare a modificare eventualmente alcune informazioni di salvataggio. Ti consiglio quando devi andare a effettuare il salvataggio del file dvg di chiedere sempre a chi devi salvare i disegni la versione di AutoCAD. Nel mio caso sto salvando il disegno in AutoCAD 2013. Puoi vedere comunque che la versione più vecchia è AutoCAD 2000. Salvo le eventuali modifiche fatte e ora vado a salvare il dvg. Lo vado a nominare e salvo il documento. Una volta salvato avremo la possibilità di aprire il dvg. Il disegno come puoi vedere è stato tradotto in maniera corretta. Il fatto di utilizzare il mio traduttore ti permette di avere alcuni piccoli accorgimenti. Tra questi hai la possibilità di vedere una suddivisione dei lucidi di Archicad all'interno del dvg. Infatti se vado a richiamare l'elenco dei layer ho la possibilità di vedere solo esclusivamente i layer visibili al momento del salvataggio, cosa importante nel caso in cui non ti interessa salvare magari altre parti del progetto. Hai la possibilità di avere una distinzione tra i lucidi dei muri e i lucidi dei serramenti. Infatti sai benissimo che in Archicad le porte e le finestre vengono posizionate all'interno dei muri per cui prendono il lucido del muro in cui sono ospitate. In caso di esportazione invece viene generato in automatico un lucido dedicato ai serramenti. Passerà andarlo a spegnere per non vedere più i serramenti sia finestre sia porte. Hai la possibilità anche di avere un lucido separato per quanto riguarda le quote dei serramenti. Poi come puoi vedere possiamo distinguere i rettini delle campiture, i rettini, le linee di separazione degli strati in maniera tale da poter eventualmente andare a pulire ulteriormente il disegno di WG per poterci lavorare oppure per poter andare a stampare.